La mandragola o mandragora si usa per riportare chi è stato pietrificato al suo stato originale. È anche molto pericolosa, il pianto della mandragola è fatale per chiunque lo ascolti. Nessuno dei Grifondoro si è comprato la missione, sono stati scelti per il loro talento. Vuol dire uno col sangue sporco, è un insulto spregevole per quelli che sono nati babbani, quelli che non hanno i genitori maghi. Una come me! Non è un termine che di solito si usa tra la gente civile. Perfino nel mondo dei maghi sentire voci non è un buon segno. Badate, non sarebbe facile, senza pensare che infrangeremmo un'infinità di regole. E sarebbe pericoloso. Molto pericoloso. No, non viene mai nessuno qui. Mirtilla malcontenta? Mirtilla malcontenta. Hermione, bentornata. Grazie, Sir Nicholas. Harry, c'è Hermione! Mirtilla malcontenta. Mirtilla malcontenta. Mirtilla malcontenta. Mirtilla malcontenta.